buongiorno peppe come vedi ho indossato la tua maglia e la porterò con me spesso nei miei tour in bicicletta ok grazie ancora per il pensiero ciao ieri ero con la tenda praticamente in fondo a quel prato poi il proprietario di questo camping mi ha detto di mettermi qua sotto questa notte avrebbe fatto un grosso temporale per fortuna è andata bene ma comunque estremamente gentile veramente voluto a tutti i costi che piazzavo la tenda proprio davanti al suo bar adesso sono solo hanno lasciato tutto in custodito si sono fidati di me ho già smontato la tenda adesso carichiamo la bicicletta e si parte è proprio un bel giorno perché pensavo che questa mattina avrebbe piovuto ma le previsioni hanno sbagliato anche oggi mi sta andando abbastanza bene questa mattina raggiungerò nardò e poi andrò a gallipoli viaggiola tu come stai questa mattina sei in forma ormai sono entrato in simbiosi con la mia bicicletta è sempre pronta per un nuovo viaggio viaggiola taranto lecce montare smontare la tenda potrebbe sembrare qualcosa di difficile o perlomeno noioso o fastidioso in realtà sta diventando una piacevole routine è un gesto al quale alla fine ci si affeziona compreso fare cucina semplice da camping cucinare un piatto di pasta con il fornellino si imparano ad apprezzare le cose semplici della vita la stessa cosa procedere lungo strade sconosciute dove l'imprevisto può essere sempre dietro l'angolo comincia a diventare qualcosa di adrenalinico di speciale che mi fa sentire vivo doversela cavare in qualsiasi circostanza è una bella cosa una bellissima abitudine che spero di prendere nella mia vita quotidiana quindi nardò è a 28 chilometri una decina di chilometri a nardò nardo comune di pace nardo è stupenda questo monumento è fantastico il barocco spobola ci faccio un bel pasticciotto pieno di crema buonissimo dolce tipico buonissimo dolce tipico Grazie a tutti. E un po' di gravel ci vuole. Bellissima questa strada piena di ulivi secolari, fichi d'India. Mi trovo su una strada... Sono provinciale 17. E siamo arrivati anche a Gallipoli. Sì. 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 Io gli occhiali li ho comprati. Mi servono più che altro per il vento. Va bene così adesso. Sì. 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 Io glPeranio. Sì. 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 Dopo un paio di giorni di bicicletta una sosta pratica ci vuole, dai. Anche per spezzare questa giornata e pieno giorno c'è un sole , niente male. Quindi si prende un pò di fresco. ci si rimette un po' in sesto è una fritturina sono appena partito da Gallipoli adesso non ho una meta precisa farò un po' di chilometri e poi mi fermerò in qualche camping poi vedremo dai da qui a Santa Maria di Leuca più o meno penso che sarà quasi tutta costa ionica qui c'è un mare incredibile bellissimo fatto di tante dune e di insenature strada interrotta eccetto pedoni e biciclette sono già passato dall'altro lato il bello della bicicletta ma quanto è bella l'Italia ditemi quanto è bella l'Italia guardate che spiaggia che mare comunque la Puglia la vedo bene questa regione ha molte potenzialità sembra che in questi giorni le nuvole mi stanno evitando guarda che strada che ho preso eh sì favolosa sono a Torre Pali è la prima sciclabile che vedo sono arrivato nel mio camping guardate guardate tutto bello al fresco questa è la mia piazzola ho parlato appena adesso con la signora che mi ha detto che ha fatto temporale tutta oggi infatti guardate per terra è tutto spagnato praticamente il temporale oggi mi ha girato intorno sia ieri che oggi mi è andata benissimo bene cominciamo a montare la tenda l'acqua sta per bollire ragazzi io sono andato a Eurospin e ho trovato questi questo è cibo desidratato è un risotto con asparagi l'ho provato una volta non è niente male per viaggiare e arrangiarsi ogni tanto secondo me va bene che è la pozione magica sì sì lo so molti di voi non lo mangerebbero mai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti